ciao bebi chicca! ti va di andare con me? certo certo! e lo dovrei improvvisare perchè io ancora non so scrivere sii ma qui siamo? vai! iniziamo! ma Babbo Natale come fa a entrare nei cammini? si strisce e passa e se un bimbo non ha il cammino in casa? entra dalla porta! e le renne come fanno a volare? ma le renne non volano bebi chicca! come fa la slitta a non cadere? ma la slitta non è mai caduta! come ci entrano tutti i regali in un solo sacco? in un sacco enorme! e come fa Babbo Natale a fare il giro del mondo in una sola notte? usa una slitta velocissima! e tu che ti hai chiesto a Babbo Natale? che tutto questo incubo finisca! wow!